Bella raga, allora oggi andiamo a scoprire una cosa speciale su Fortnite Quindi ora ci becchiamo subito nel game ragazzi Fidatevi, non saltate questo video Guardatevelo fino alla fine ma prima di iniziare lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanina e condividete il video con tutti i vostri amici A tra poco Ok ragazzi siamo arrivati qua, vi sto portando appunto in questa isoletta Allora io non so ragazzi che cosa potrebbe mai essere Ma allora la mia opinione è che sia la nuova casa di Ant-Man Da come avrete detto probabilmente dal titolo Quindi adesso io mi metto di qua, faccio una bella, si raga è la casa di Ant-Man Eh raga è fisso, è la casa di Ant-Man È lei Luca piglia il pom, no lasciami il pompa Lucchino Che non ho armi, facciamoci questi qua Che cazzo vuoi di pompa? Questo qua dietro, madonna ma tu sei cieco zio, tu sei cieco veramente Ok Ok raga vedete è la casa proprio di Ant-Man Ma dove sei? Mi sono perso zio Mi sono perso Non ho niente Eh bastardo, ho ucciso Ok ragazzi ora che ci siamo un attimo liberati Oh, è più la mitraglietta No non ho niente No neanche io Comunque ragazzi vedete ci sono le fiale di Ant-Man Ragazzi probabilmente stasera le due metteranno Ant-Man nello shop A questo punto mi viene da pensare Cazzo è vero, ecco cosa che erano Secondo me verrà messo Ant-Man stasera raga le due nello shop Comunque adesso ho da fare la foto Ok raga quindi niente Questo qui era lo spoiler di oggi Volevo farvi solamente vedere che hanno messo qua A fianco a siepi da grifoglio In questo punto qua raga Appunto la casetta probabilmente di Ant-Man Lo scopriremo probabilmente stasera appunto E niente raga niente Adesso io posso stoppare qua il video Per adesso qua è tutto Ci becchiamo forse tra poco Se no grazie di aver visto questo video ragazzi Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale ovviamente E attivate la campanellina per non perdere nessunissimo video ragazzi Molti di voi che sono iscritti non guardano i video Raga guardateli sti video Vi voglio bene